Avviene Gandiani, vai scena, nuova tortretteste Lodigiani, la quarta contro la terza, la miglior difesa contro il secondo miglior attacco. Una partita che comincia a profumare di finali anche se siamo solamente all'inizio. Parte bene la nuova tortretteste, Terracina allarga per compagnone che con un tiro a cross trova un compagno dentro che serve ai marruganti, ma non calcia e la palla arriva a Terracina che con il sinistro però prende il palo. Al dodicesimo minuto si accentra Vermicelli che calcia alto con il destro. Ancora nuova tortretteste, cross di Di Marco arriva più in alto di tutti Agrifoglio che non è preciso di testa. 1-2, girini urbinati, quest'ultimo calcia ma la strozza troppo, nessun problema per l'epore. Ripresa che parte dopo lo 0-0 del primo tempo e parte benissimo. Stoppa la Roberto Baggio 1 contro 1 con l'epore e non sbaglia, Marruganti porta avanti la nuova tortretteste, 1-0. Marruganti Show serve compagnone ma l'allunga troppo sull'uscita di l'epore. Si fa vedere anche la Lodigiani con Di Maggio ma Calcaterra compie un'ottima parata su punizione. Al ventitresimo Terracina ne supera uno, ne supera un altro e calcia ma si salva l'epore con un'ottima parata. All'ultimo su punizione lo stesso l'epore nega la gioia da Agrifoglio. Vince Cianti su Lettieri e c'è il sorpasso del Rosso Blu sulla Lodigiani. Grazie a tutti.